Una situazione davvero difficile, quella che sta vivendo una famiglia di Sernia che risiede in un alloggio dell'OIACP nel quartiere San Leucio. Le immagini girate all'esterno danno l'idea del degrado e della precarietà, ma all'interno le cose sembrano andare peggio. Gli infissi lasciano passare il freddo, le infiltrazioni d'acqua e l'umidità sono ospiti fissi. Come se non bastasse, l'impianto di riscaldamento funziona poco o niente e l'acqua calda è solo un sogno. I disagi maggiori li sta subendo una ragazza, per via dei suoi gravi problemi di salute, da molti anni è costretta a stare a letto. Vivere in un ambiente del genere di certo non aiuta. Lo zio Fernando Cetra le ha provate tutte pur di darle una casa dignitosa, ma tra un palleggio di competenze e l'altro le risposte tardano ad arrivare. Il mio nipote è salettato, la casa è umida, ho mandato le carte anche alla procura, la procura mi hanno dato nessuna risposta. Ho mandato anche le carte ACP e l'ACP mi ha detto niente, mi ha detto nessuno e no. Ho mandato le carte al prefetto e il prefetto ha detto riposso al comune e il comune non mi ha dato nessuna risposta. Ho mandato anche le carte sotto l'ASP e mi ha detto il dottore è a casa. Il dottore ha detto, ma questa bambina sta andando a queste condizioni qua. Entra in registrazione, muffa, acqua e la carta non funzionava. Ho pagato io, ha speso i 1500 euro per metà posta, la mia nipote ha lasciato un problema respiratorio. E' in posta di vendere qui la casa, sto prendendo la bronca polmonita. Voglio un ACP, facendo qualcosa per mia nipote, ma anche per noi, per mia nipote. Ha racconciato la casa per mia nipote. Entra questa casa qua, sono 39 anni, è umida, entra l'utilizzazione, l'acqua. Le terazze sono sempre piene di acqua, buffa, entro le camerette sono sempre piene di buffa. ACP lo sanno, ma non ha nessuna risposta. ACP lo sanno, ma non ha nessuna risposta.